12 consiglieri di opposizione al Comune dell'Aquila hanno scritto al Ministro della Cultura Dario Franceschini per chiedere aiuto e opporsi al progetto annunciato dall'Aggiunta Biondi di realizzare un primo parcheggio a raso, c'è anche il progetto del parcheggio interrato, che è un secondo step, dove c'erano le case Ater in centro, a ridosso di Porta Leoni, che il Comune ha preso assieme alla scuola di Preturo con uno scambio con l'Ater al quale ha fornito appartamenti in suo possesso da mettere a disposizione degli inquilini. I consiglieri ricordano al Ministro che proprio lui nel 2016 fu il promotore dello stanziamento di ben 30 milioni di euro per valorizzare all'Aquila il patrimonio culturale nazionale, fondi specifici per il Duomo, per Santa Mera Paganica e proprio per le mura storiche. Lo Stato dei Lavori, la cui parte finale sarà finanziata con 5 milioni dal Cipe stanziati nel 2018, presenta per i consiglieri diversi nodi da sciogliere e criticità, ma la situazione che preoccupa di più è proprio per loro quella relativa alla realizzazione del parcheggio, che andrebbe di fatto sostengono a deturpare le mura. Il progetto di riqualificazione di Portaleoni, secondo loro, potrebbe non attuarsi mai e in attesa del parere della soprintendenza hanno deciso così di rivolgersi al Ministro direttamente per tentare di bloccare il progetto. Abbiamo fatto una lettera che è praticamente un appello a tutti gli effetti al Ministro e al Ministero perché vogliamo che venga posta la tutela giusta alle mura, alla nostra storia, al nostro patrimonio storico. Siamo preoccupati perché oggi non si guarda alla riqualificazione di quell'area, ma si guarda a fare un progetto rabberciato all'ultimo secondo solo per fini elettorali e questo non lo possiamo permettere. Il progetto ereditato era di 4 milioni e quei 4 milioni erano la valorizzazione delle mura, il bel vedere di Portaleoni e un parcheggio interrato. Tutto ciò che loro, per loro negligenza, per loro ritardo, non sono riusciti praticamente a portare avanti. Parlano nel tentativo di difendersi di provvisorietà, ma la provvisorietà italiana la conosciamo tutti. Diventerà un'opera definitiva che distruggerà e denigrerà anche le nostre mura storiche. Questo veramente non si può permettere per tutto quello che è l'Aquila, che è l'Aquilano, ma anche per tutto quello che abbiamo subito dal sisma del 2009. Bisogna fare progetti di riqualificazione vera, anche perché noi oggi abbiamo una viabilità che è tutta da inventare e non avendo fatto un progetto unitario, così come la legge ci dice, non possiamo neanche andare a espropriare tutte quelle altre parti che sono di contorno a Portaleoni e che servirebbero e servivano a una riqualificazione vera. Poche parole, un disastro.